Secondo giorno di zona rossa per l'Abruzzo, ma già si riscontrano le prime violazioni. Nonostante i risultati del tampone positivi per l'intera famiglia e la successiva messa in quarantena da parte dell'Asle di Pescara, infatti un quarantenne pugliese residente a Montesilvano ha violato per ben due volte l'isolamento. E così per lui è scattata la denuncia. Ieri sera infatti l'uomo insieme al figlio minorenne si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Atri per le ferite riportate in un incidente stradale, del quale era rimasto coinvolto il giorno prima, mentre incurante del divieto di uscire di casa era andato a fare la spesa. L'uomo, che ha subito ammesso di essere risultato positivo al tampone e di aver violato per due volte la quarantena, è stato così denunciato dai poliziotti del commissariato di Atri. Altro caso a Sulmona, dove il passo incerto di tre uomini ha insospettito subito la polizia e i tre, tutti sulmonesi, hanno confessato di essere stata a casa di un amico per una bevuta. Per gli uomini di 48, 46 e 30 anni di età è scattata la sanzione amministrativa nel primo giorno di zona rossa. I controlli a tappeto delle forze dell'ordine per il rispetto delle vigenti misure precauzionali hanno portato quindi ad irrogare le prime sanzioni. I tre sono stati individuati dalle pattuglie del commissariato di polizia di Sulmona, incaricate dal questore dell'Aquila per il monitoraggio del territorio nel rispetto della normativa anti-Covid. Erano circa le 22.30 quando i tre amici sono stati fermati dagli agenti di polizia lungo via Pescara. Sono stati quindi sanzionati amministrativamente. La bevuta tra amici costerà loro 400 euro ciascuno.